All'ospedale maggiore contro l'esternalizzazione della mensa, o più chiaramente contro la sua privatizzazione, una quindicina d'anni fa si erano mobilitati i sindacati confederali, che avevano trovato il consenso della direzione sino a cancellare l'ipotesi di appaltare il servizio. Adesso invece, senza troppo clamore, il bando è già stato pubblicato dalla Regione Lombardia sul sito Arca, la centrale acquisti per la Regione. Il blocco del turnover ha ridotto il personale di circa 10 unità. I pensionati non sono stati sostituiti con nuove assunzioni. Restano al lavoro una trentina di cuochi, operatori tecnici della ristorazione a Cremona e un'altra decina all'Oliopo di Casal Maggiore. Altro fattore decisivo è la trasformazione degli ospedali in aziende, sullo slancio della legge di Lorenzo e della riforma sanitaria regionale di Formigoni e Borsano, traduttasi poi, sull'ulteriore spinta dalle politiche liberali europee, nella concentrazione degli investimenti sull'attività specifica, cioè esclusivamente i servizi sanitari, destinando col tempo ai privati le altre attività. Anche a tavola, dunque, chi serve il menù sarà il privato, non più il pubblico, al quale resta il compito di controllare il rispetto del contratto. Intanto i corsi di formazione per la ricollocazione dei dipendenti inizieranno domani a Cremona. I posti di lavoro vengono così conservati. Ciascun lavoratore potrà essere inserito nell'uno o nell'altro settore dell'azienda ospedaliera, a Cremona come a Casal Maggiore, oppure cercare lavoro all'esterno o presso la ditta che vincerà l'appalto. Nell'estate scorsa i servizi di supporto alla mensa sono stati assegnati su gara fino a settembre di quest'anno. Un lotto a Cremona, un altro a Desenzano del Garda e un terzo a Pavia. La tendenza però è la stessa ovunque. Il vincitore della gara, se sufficientemente attrezzato, potrà vincere altri appalti a Cremona, città che si conferma, come tutte le realtà minori, terra di conquista dei poteri economici più forti. Una grande azienda del settore della ristorazione potrà quindi aggiudicarsi appalti da decine di milioni di euro sia all'ospedale che eventualmente anche nelle case di riposo della città e del territorio, sempre con l'offerta economicamente più vantaggiosa.